Ciao a tutti e benvenuti alla Movie Planet. Oggi vediamo come lucidare perfettamente la tua auto. Questo sistema è nato principalmente per aiutare i carrozzieri professionisti a ottenere un risultato perfetto in metà tempo. Ma se segui passo per passo quello che ti spiego fra un attimo, usi i prodotti giusti e gli attrezzi giusti, ti garantisco un perfetto risultato che farà invidia non solo ai tuoi amici, ma il tuo carrozziere di fiducia vorrà assumerti come lucidatore. Da sempre noi professionisti usiamo i prodotti della Systemax Italia per la lucidatura, perché la Systemax produce la pasta abrasiva, il police eccetera, quindi andiamo a trattare con dei veri esperti che hanno una conoscenza profonda del prodotto. Per questa speciale occasione ci siamo affidati alla professionalità della carrozzeria SAM di Nichelino, che ci ha gentilmente ospitato e ci ha mostrato passo dopo passo questa tecnica infallibile. Quindi, non perdiamo altro tempo, ci trasferiamo a Nichelino nella bellissima carrozzeria SAM. Ciao a tutti, sono Angelo Belsito, il titolare della carrozzeria SAM. Eccoci pronti, che cosa ci occorre? Allora, una lucidatrice rotativa a velocità regolabile, questo tampone che vedi qui, che è un tampone di lana misto sintetico e morde in un certo modo. Abbinato alla pasta grigia della Systemax fa un lavoro meravigliosamente eccezionale. Questo platorello che vedi qui è più spesso dei platorelli normali ed è fatto apposta per seguire le sagome della macchina. Quindi montiamo il tutto e si comincia. Alla fine del video, poi ti dico dove e come puoi trovare tutto il materiale occorrente. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla tecnica. Prima di cominciare la lucidatura, è buona abitudine dare una leggera spruzzatina di brillantante sopra il tampone in modo che non sia del tutto secco. Mettiamo un po' di pasta sul tampone e si parte. La lucidatura va cominciata con una velocità piuttosto bassa. Questo serve per distribuire la pasta abrasiva su tutto il pezzo da lucidare. Poi, man mano che si va avanti, aumentiamo gradualmente la velocità. Poi, man mano che si va avanti, aumentiamo la velocità piuttosto di più. nota bene questo particolare qui su questo cofano della bmw che ha delle sagome puoi notare come il platorello va ad adattarsi alla sagoma del cofano questo ti aiuta tantissimo quando ci sono spigoli sagome angoli e ti aiuta a non scoprire è chiaro che devi sempre starci attento tu ma il platorello ti aiuta a non essere troppo aggressivo dove ci sono sagome spigoli angoli eccetera adesso rallentiamo le immagini così vedi bene come si adatta adesso stai bene attento a ciò che stai per sentire perché questo è uno dei segreti che decide tra un'ottima lucidatura e una mediocre lucidatura stai ben attento e ascolta con attenzione vedi che la pasta qua se tu guardi qua la pasta qua ha lavorato a taglio vedi che ci vedono i segni del disco qua praticamente ha lavorato a taglio qua invece comincia a posizionarsi a macchie se io adesso ti do una spurtata di brillantante la riporto tutta così ok vai appena appena proprio ricapitoliamo quando vedi che la lucidatura non è perfettamente uniforme normalmente cosa fai aggiungi ancora un po di pasta e dai una seconda passata mentre il segreto qual è con un pizzichino di brillantante ma proprio poco come vedi nel video tu vai a riprendere le parti che non sono uniformi in questo caso non sono uniformi per un motivo molto semplice il cofano non era stato pulito perfettamente non era stato lavato perfettamente ma possono essere diversi i motivi potrebbe anche essere una giornata molto calda molto secca quindi in alcuni punti potrebbe farti una lucidatura più uniforme e in altri meno quindi usando appena appena un ciccinini di brillantante riprendi la lucidatura la porti completamente tutta in modo uniforme non sprechi materiale e hai un ottimo risultato ok vedi questo particolare di non aggiungere altra pasta è importante logicamente i prodotti noi li dobbiamo usare dal primo gennaio al 31 dicembre quindi abbiamo anche la giornata che fa molto caldo la giornata molto secca coagliuare il prodotto abrasivo con un liquido serve nelle giornate più secche più calde a non fare polvere perché oggi non c'è questo problema perché siamo in una situazione se facesse tanto caldo pure quelle giornate come era la questa settimana che c'era il cielo azzurrissimo e l'aria molto secca anche se fa freddo è più la questione di umidità che c'è nell'aria quindi un'aria molto secca tende a far polverizzare la pasta per evitare di far polverizzare la pasta si usa il brillantante a questo punto abbiamo da togliere i segni che lascia la macchinetta rotativa hai presente quei segnacci che vedi sulle macchine soprattutto d'estate sulle macchine scure si vede bene bene al sole ci sono quei segnacci brutti orrendi quasi tridimensionali che sono quelli della lucidatura proprio per togliere questi segni dobbiamo passare la rota orbitale ma non dobbiamo passarla con il polish attenzione va passata con la pasta abrasiva è così che togliamo i segni della rotativa col polish li camuffiamo quindi la prima volta o la seconda al massimo che vai a lavare l'auto ti riaffiorano tutti i difetti il polish si dà solo ed esclusivamente come protezione e come ulteriore diciamo brillantezza per avere una brillantezza maggiore ecco una brillantezza più bella più pulita a questo serve il polish non serve a risolvere i problemi i problemi li dobbiamo risolvere con la pasta abrasiva quindi il polish va dato sul problema già risolto non sul problema da risolvere in realtà quando lavi la macchina un paio di volte il polish va via tanti ho visto tanti fare la lucidatura e poi lavar la macchina per poi risolvere i problemi ancora dopo per evitare tutta questa perdita di tempo cosa fai pasta abrasiva macchinetta roto orbitale controlli se è tutto perfetto dai il polish e problemi non ne hai più adesso io qua posso o pulire e ti faccio già vedere la superficie finita poi ci vado sopra direttamente con la macchinetta roto orbitale come puoi ben vedere dalle immagini a come si chiama si Active questo punto abbiamo già un bellissimo risultato ma se noi prendiamo quest'auto e la mettiamo al sole noterai tutti i segni che ha lasciato la macchinetta rotativa. L'ultimo prodotto che io ho passato in rotativo lo ripasso in roto orbitale e poi gli faccio il polish, il polish è solo un protettivo quindi io prima devo risolvere eventuali problematiche della macchina e poi le vado a proteggere col polish, quindi la macchina va sempre vista prima del passaggio del polish, se a posto io vado a proteggerla con il polish, proteggo un buon lavoro non un lavoro pessimo. E' giunto il momento di parlare della roto orbitale, che cosa fa questa macchinetta? Intanto lei gira e oscilla con un movimento di due centimetri, si usa con un tampone meno aggressivo di quello di prima, con un pochino di pasta abrasiva ma solo perché l'abbiamo tolta con il panno, altrimenti avresti potuto passarla direttamente e andiamo a terminare il nostro lavoro. Come puoi vedere dalle immagini la roto orbitale si passa in modo leggero senza premere, è abbastanza veloce, scorrevole diciamo, ok? Una volta fatto questo passaggio si cambia il tampone, si mette quello morbido da polish e si dà il polish, ma i problemi li abbiamo già risolti prima, quindi tu stai sereno. Una volta tolto il polish non hai sorprese. Ti dirò di più, supponiamo che hai una macchina da consegnare oggi e vuoi dargli quel tocco di brillantezza senza però fare una lucidatura profonda, col polish rosa della Systemax che è leggermente abrasivo ottieni un risultato sorprendente. Facciamo un altro esempio, diciamo che domani devi andare al matrimonio del tuo miglior amico, la tua macchina è nuova, la vuoi semplicemente proteggere e dare quel tocco di brillantezza in più. Ok, il polish rosa fa al caso tuo. Grazie a tutti. Benissimo ragazzi, anche per questa volta è tutto. A questo punto tu questa macchina la puoi prendere, ma guardare al sole, sotto i lampioni, sotto i neon, la puoi guardare come vuoi. Segni non ne vedrai perché non ci sono, l'abbiamo eliminati. Quindi ti lascio qui di sotto in descrizione il sito e i numeri di contatto della Systemax Italia. Io ho tentato, cioè ho lanciato un sassolino alla Systemax dicendo se fosse possibile fare un piccolo sconticino a quelli che vi contattano dicendo che hanno visto il video su YouTube. Non vi prometto niente, voi provate, contattateli e vedete chiaramente ragazzi qui parliamo di prodotti altamente professionali. Comunque sia non mi hanno detto no, perciò provate, contattateli e vedete un po'. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e come sempre, buon lavoro! Qual è la differenza tra quella che hai usato prima e questa? Il movimento. Il movimento. Questa funziona praticamente come una carteggiatrice, quindi ha una fase rotativa e poi oscilla su un'orbita. in questo caso di due centimetri è l'orbita. È un po' come in carteggiatura, quando io voglio andare alla miera uso un flessibile, ma per andare a preparare la superficie e la verniciatura uso la carteggiatrice. In questo caso noi abbiamo tolto le righe più profonde col flessibile e poi andiamo a togliere le righe create dal flessibile con un movimento rotor vitale. Chi ha ragione, Paolo, di dire che sei preparato? Sono vent'anni! Chi ha ragione! 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 Grazie a tutti.